La Daedone nella sua richiesta chiama in causa gli incendi che la scorsa estate hanno devastato migliaia e migliaia di ettari di bosco, facendo pesanti danni anche nella montagna di Erce. Il primo a fine giugno, lungo il versante di Martogna, arrivando fino a Fontanarossa e a Bonagia. Il secondo, i primi di agosto, nel lato di San Matteo, entrando nel bosco della Casazza e mandando in cenere tanti alberi. Da qui l'invito, rivolto all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Danila Toscano, di piantare nuovi alberi e di procedere alla sostituzione di quelli che rischiano di cadere, chiedendo di coinvolgere nell'iniziativa anche l'escularesca. La stagione 2017 è stata tra le più drammatiche per quanto riguarda gli incendi. La mia iniziativa parte lunedì scorso all'interno del Consiglio Comunale. Ho chiesto se era possibile piantare, mettere a dimora, quindi, dei nuovi alberi, soprattutto nei posti in cui ci sono degli alberi che provocano delle difficoltà. E che sono degli alberi che, a vederli, sembrano degli alberi sani, ma in realtà le loro radici provocano delle pericolosità. L'iniziativa parte da questa necessità, ma in realtà si collega anche all'altra proposta, che è quella del rimboschimento. Come diceva lei, Erice, soprattutto Erice Capoluogo, ha bisogno del rimboschimento. Io ho mandato all'amministrazione la mia proposta proprio per permettere al Bosco di Erice, che è stato devastato soprattutto durante l'estate, di iniziare con una speranza di futuro. E quindi ho proposto anche questa iniziativa alle scuole. Spero che l'amministrazione accolga la mia proposta e i bambini, che sono il nostro futuro, vengano sensibilizzati verso il rispetto proprio dell'ambiente.